Onorevole Pulare, veniamo da un periodo difficile sicuramente dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche burocratico, però tanto è stato fatto in questa Sicilia, soprattutto dal Governo regionale, dall'Assemblea regionale che ha dato anche gli input, gli stimoli giusti al Presidente per poter emettere delle ordinanze che hanno limitato il contagio. Adesso verso quale fase andiamo? Innanzitutto oggi commentiamo a un paio di giorni l'avvenuta approvazione senza impugnativa sostanziale, insomma devo dire che da questo punto di vista non si ricordava da diversi anni una finanziaria regionale non impugnata in tantissime parti, in tantissimi articoli da parte del Governo regionale, è stato impugnato solo un paio di interventi, uno dei quali devo dire che è importante, che è quello del supporto ai dipendenti stagionali, lì abbiamo l'obbligo insieme al Governo nazionale a questo punto di trovare una soluzione, perché questi lavoratori contano di circa 35 mila unità, significa 35 mila famiglie, che se moltipliciamo per la media di 4 componenti della famiglia significa 140 mila persone, che sono come dire un terzo di una provincia come quella del Rigento. Invece la finanziaria, che è una finanziaria che il Governo aveva fatto entrare in un modo, devo dire molto limitato, con interventi molto limitati, l'Assemblea regionale lavorando nelle commissioni competenti nella commissione bilancio e poi in Aula, ha allargato tantissimo e gli interventi fatti dai vari deputati, dai gruppi parlamentari, io sono promotore di una serie di interventi, che è inutile che qua sto ad elencare, l'ho fatto man mano durante il lockdown, consentono di sorreggere questa situazione che speriamo vada in via di risoluzione. Diversi esperti ci dicono che ci possa essere una seconda ondata, coincidente evidentemente con il periodo influenzale normale, perché questa, come dire, lo dico in maniera molto terra a terra, è una influenza modificata che dà delle ricadute sulla persona che poi portano all'eventuale decesso. Ora potrebbe verificarsi con il riprendere della stagione autunnale, quindi con un normale periodo influenzale, penso che da un punto di vista comportamentale è vero sono state emanate le ordinanze e quant'altro, ma onestamente va detto una cosa, i siciliani sono stati, come dire, corretti, coerenti, avveduti nei comportamenti di, come dire, per non avere quella ricaduta che poi per fortuna non abbiamo avuto. Proprio ieri il Presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza, soprattutto che tende a tranquillizzare i cittadini, visto che comunque arrivano migranti, arrivano migranti positivi, asintomatici sì, però comunque positivi al coronavirus e da lì potrebbero esserci dei focolai che potrebbero preoccupare la Sicilia e i siciliani. Sì, devo dire, certamente le ordinanze emesse dal Presidente Musumeci sono ordinanze di tutela, soprattutto verso ciò che arriva da fuori. Recentemente abbiamo letto pure che c'era questo ceppo serbo, che il Presidente Zaia ci ha detto con ceppo, come dire, che potrebbe infettare. Il tema migranti chiaramente non si racchiude esclusivamente nell'intervento di tutela della salute, ma si chiude in un problema sociale che onestamente è un po' più ampio. Io, come dire, penso che su questo tema bisogna fare un ragionamento, un ragionamento serio. Non può diventare intanto l'atmotiv quotidiano e giornaliero. Io penso che sia un problema, sia un problema sociale. Molti di questi soggetti certamente non sono brave persone e mettono a repentaglio i bambini, le donne, gli anziani e quant'altro. Però da un lato non può diventare il light motive, ma non posso mai pensare che non troviamo un metodo per ricondurre le cose a uno stato di normalità. Se vogliamo in accordo, prima di tutto, con Roma e Roma con l'Europa. È un fenomeno che, come dire, non basta determinarsi bene, non li facciamo attraccare o non li facciamo scendere. È semplicistico e per quanto tempo lo potremo fare? E comunque sarà un problema che ci ritorna perché, voglio dire, se vanno in un paese o in uno stato che confina con l'Italia o possono arrivare attraverso la Spagna o possono arrivare dopo che vanno in Grecia. Non l'abbiamo risolto. È un problema che va risolto collegialmente e con serietà, non con lo slogan. Onestamente, quotidianamente, questo ragionamento quotidiano sui migranti mi pare onestamente eccessivo perché penso che abbiamo altre problematiche più importanti. A proposito di altre problematiche, l'emergenza sanitaria, l'emergenza Covid ha messo in luce anche quelle che possono essere carenze a punto di vista strutturale nella sanità. Lei in quel periodo si è battuto molto per fornire gli ospedali di attrezzature, per sollecitare quindi apertura anche di rianimazione, di terapia intensiva. Adesso l'assessore Razza ha annunciato il nuovo piano che prevede mille posti di terapia intensiva e in provincia di Grigento ci dovrebbero essere, ma attenzione sugli ospedali della provincia. Canicati in particolare, visto che giochiamo in casa, qual è da parte dell'assessore, dell'onorevole Pullara, dell'assessore Razza e del governo regionale? Devo dire che io sulla sanità, al netto del fatto che sono in commissione sanità, vengo da quel mondo, quindi conosco uomini e cose. Ovviamente mi sono battuto perché nei vari ospedali si potesse determinare quella rete che oggi può assicurare a un paziente X, a un utente Y, un'assistenza sanitaria importante. Va detto pure l'altra cosa, ci sono deficienze croniche, le deficienze croniche sono dovute alla mancanza di medici, ma non alla mancanza di medici perché non si vogliono assumere. Non ce n'è, in giro non ce n'è e certamente la soluzione non è fare diventare, aprire il numero chiuso della facoltà di medicina, perché altrimenti si squalificherebbe. Dobbiamo avere tanti medici per quante sono le necessità. se 12 mila, faccio un esempio, che possono essere gli specializzanti, i medici che possono accedere alle specializzazioni, sono pochi, ne facciamo 20 mila, ma non ne facciamo 100 mila, perché così 80 mila saranno in giro a non trovare un impiego. Dobbiamo abituarci a parametrare le necessità alle risorse. Ovviamente parliamo dei medici, parliamo degli infermieri, dei tecnici, perché la sanità non è un soggetto, la sanità è un team che lavora per dare una risposta. Stiamo passando il lockdown, dalle cose negative dobbiamo prendere anche le cose positive. Il lockdown e quindi la pandemia ha spostato l'asse. Dalla ricerca spasmodica ragioneristica di far quadrare i conti in sanità, si è compreso che forse questo non era la strada giusta. Certo, siamo passati da un eccesso a un altro, come avviene in Sicilia, quasi sempre in Italia spesso. Dobbiamo provare a trovare la via di mezzo tra, come dire, non i macchinari, perché molti l'hanno dimenticato, c'erano le attrezzature sanitarie comprate e buttate nel di sotto scala, c'erano medici che non avevano dove operare, non c'erano le saloperatori, cioè, come dire, quello era l'eccesso. Poi siamo passati alle liste d'attesa per essere operati, tra virgoletto, alla mancanza dell'attrezzatura dell'attacca, perché una si rompe e non avevamo una di backup. Bene, come io, come dire, lavoro in sanità da diversi decenni. Ho assistito al primo momento, ho assistito al secondo momento. C'è una via di mezzo che è quella di mettere al centro il paziente, l'utente, la persona e dare un'assistenza sanitaria dignitosa, che sia un'assistenza sanitaria di qualità. Spesso, lo dicevo quando ero direttore al civico, noi serviamo il caviale nei piatti di plastica. Se noi servissimo della pasta a forno o delle cotolette in una bella tavola con dei piatti di porcellana importante, anche l'impatto dell'utente e quindi la fiducia verso la struttura sanitaria cambierebbe. Noi diamo caviale in piatti di plastica e, come dire, capite bene che alla fine rischiamo di non fare apprezzare quello che facciamo. Allora è il contrario. Dobbiamo provare a servire del caviale, non dico nei piatti di porcellana, ma quando o meno di ceramica. Ecco, questo secondo me è un punto d'incontro che possiamo ricercare.